Direttamente dalla storica sala dei monopoli di Stato di Piazza Mastai, in Roma, questa è l'estrazione di Super Enalotto. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del Super Enalotto. Oggi, giovedì 11 ottobre, il jackpot ha raggiunto la cifra di 49.528.280 euro. Le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e, con l'autorizzazione della Commissione di Controllo, diamo ora il via all'estrazione del concorso numero 122. Inizia il mescolamento automatico delle sfere. Stiamo per scoprire i 6 numeri vincenti più il numero jolly. Tenete strette le vostre ricevute. È in arrivo il primo numero. Il primo numero estratto è il numero 39. Siamo al secondo numero, con Super Enalotto si inizia già a vincere. Il secondo numero estratto è il numero 62. Il terzo numero sta arrivando. Il terzo numero estratto è il numero 68. Pronti per il quarto numero? Il quarto numero estratto è il numero 23. Adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite. Il quinto numero estratto è il numero 50. È il momento di incrociare le dita. Stiamo per completare la sestina vincente. Il sesto numero estratto è il numero 20. Dopo i 6 numeri che assegnano il jackpot, passiamo ora all'estrazione del numero jolly. Vi ricordo che indovinando questo numero, insieme a 5 numeri della sestina vincente, potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1. Il numero jolly estratto di questa sera è il numero 27. Controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione e il numero jolly. 39, 62, 68, 23, 50, 20. Numero jolly 27. Ed ora passiamo al numero superstar. Superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata. La sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le spere da 1 a 90. Procediamo con l'ultima estrazione di questa sera. Vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre. Superstar moltiplica le vincite super in all'otto fino a 100 volte e premia anche lo 0 e l'1. Le sfere stanno ruotando nell'urna. Pronti? Il numero superstar estratto di questa sera è il numero 46. Ricontrolliamo tutti i numeri estratti del concorso numero 122 in ordine crescente. 20, 23, 39, 50, 62, 68. Numero jolly 27. Numero superstar 46. L'estrazione di oggi, giovedì 11 ottobre, termina qui. Diamo il tempo di verificare tutte le giocate e ci rivediamo tra poco per scoprire se il jackpot di oltre 49 milioni 500 mila euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore. Ben ritrovati. Poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 122. Siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? Questa estrazione del super in allotto assegna 333.367 vincite. Vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 49 milioni 500 mila euro. Sarà stato centrato il 6? Questa sera il 6 di super in allotto non è stato realizzato e il jackpot cresce ancora per arrivare a 50 milioni 600 mila euro. Vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote. Nessun 6, nessun 5 più 1. L'unico 5 vince 160 mila 326 euro, i 4 sono 557 e vincono 293 euro ciascuno, i 3 sono 18 mila 565 e vincono 26 euro ciascuna, i 2 sono 286 mila 666 e vincono 5 euro ciascuno. Ed in questo concorso sono state assegnate ben 11.870 vincite immediate del valore di 25 euro ciascuna. Scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar. Nessun 5 stella, i 4 stella sono 4 e vincono 29 mila 302 euro ciascuno, i 3 stella sono 87 e vincono 2647 euro ciascuno, 100 euro vanno ai 1102 due stella, 10 euro agli 8 mila 26 uno stella, 5 euro ai 18 mila 759 zero stella. Vi ringrazio per essere stati con noi, Super Enalotto vi dà appuntamento a sabato 13 ottobre, giocheremo per un jackpot di 50 milioni 600 mila euro. Arrivederci. Grazie.